Buonasera, come sapete il 30 maggio Don Francesco è morto. Il meeting che a Don Francesco deve moltissimo, questa sera ci vuole mettere di fronte a questa figura davvero umanamente così significativa che è la figura di Don Francesco. Ma non appena per coltivare dei ricordi, ma perché proprio attraverso la sua testimonianza ognuno di noi possa affidarsi a quei segni vivi di una presenza. Perché questo è davvero il lavoro che ridà alla vita continuamente un moto in più di verità. E la vita di Don Francesco è stata una segnalazione viva di questa presenza. Io personalmente, negli ultimi tempi di Don Francesco, vorrei ricordare due fatti che mi hanno particolarmente colpito. Innanzitutto, il clima di quella settica cameretta d'ospedale in cui si avvertiva invece decisamente una serenità, una consapevolezza, una fabilità, direi quasi un luogo di lavoro, che comunicava in maniera estremamente evidente lo spessore di quella offro che Don Francesco personalmente ridiceva al Signore nel cuore diverse volte al giorno nella sua giornata. E vorrei poi ricordare l'omelia che Don Giussani ha pronunciato in occasione della messa di suffragio, il giorno prima del funerale a San Filippo. Mi è sembrata come che continuasse la lunga consuetudine di un parlarsi a fondo, da amici da sempre. Ma se è possibile ancora più una consuetudine ancora più tesa, ancora più intensa, ancora più profonda, direi ancora più misteriosa. Perché Don Francesco dal mistero era posseduto ed è posseduto e Giussani la presenza di questo mistero la avvertiva sensibilmente. Questa sera vogliamo come recuperare le impronte di questa presenza sparse nel mondo. proprio letteralmente nel mondo. Proprio perché l'ambito in cui viveva Don Francesco era il mondo. Perché i suoi viaggi, le parole, le iniziative, i rapporti, le comunità sparse nel mondo sono come le impronte di questa presenza. Ed è per questo che abbiamo delle testimonianze che questa sera, delle persone che questa sera ci danno una testimonianza che provengono dalle più diverse parti del mondo. E vorrei dare a loro immediatamente, immediatamente la parola. Incomincia il professor Grigiel, polacco, attualmente docente di antropologia filosofica all'Istituto Giovanni Paolo II presso l'Università Lateranense ed è membro consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ha incontrato Don Francesco nel 1966 a Milano Marittima. Do la parola al professor Grigiel. Carissimi amici, Ciprian Kamil Norwid, forse il più grande poeta polacco, Descrisse così ciò che aveva vissuto durante la visita al suo amico morrente, Frédéric Chopin. Fui da te in quei penultimi giorni d'impenetrabile trama, Colmi come il mito, Pallidi come l'alba, Quando la fine della vita Sussurra all'inizio Non ti lacererò, no. Io ti darò rilievo. Con queste parole di Ciprian Kamil Norwid, Le cui molte poesie sono apparse in Italia proprio grazie a Don Francesco Ricci, Che si era innamorato della bellezza e della profondità Del pensiero di questo poeta, Si accomiatano da lui gli europei centro-orientali. I suoi penultimi giorni sono stati d'impenetrabile trama, colmi come il mito, Pallidi come l'alba. Veniva in quei paesi riprendendo l'antico sentiero dell'ambra. Non veniva però come un commerciante di opinioni e teorie occidentali che indicano come usare la realtà, Ma come un uomo di ultimi e di primi principi che ci chiamano ad amarla, ad esistere, cioè, secondo la sua verità. Egli è stato un uomo giusto. E' vissuto rendendo giustizia a ciò che è, nella prospettiva di come tutto dovrebbe essere. Proprio per questo fu costretto a scendere nella clandestinità con tanti abitanti di entrambe le parti dell'Europa. Sì, diciamolo sinceramente, i testi pubblicati dal Xeo, fondato da Don Ricci, funzionavano anche qui, in Occidente, Come il cosiddetto Samisdat nel mondo orientale. Il suo primo viaggio in Polonia, fatto insieme con il compianto Antonio Setola, E' stato un'avventura dalle conseguenze in quei tempi difficilmente prevedibili. In questi viaggi, o piuttosto in questi pellegrinaggi, come d'altronde nella sua vita quotidiana, Francesco Ricci si è rivelato come uomo mandato agli altri. Egli era missione, cioè persona. Se l'umanità consiste nell'essere mandato, cioè essere dato agli altri, Don Francesco è stato una epifania di essa. Sempre, perfino in quei penultimi giorni, pensava non a sé, ma agli altri. Proprio per questo, Egli era sé stesso. Questa abitudine di essere sé stesso, Gli ha reso più facile ricevere la grazia di pensare nell'ultimo giorno a Cristo. Perciò siamo sicuri che Egli, non avendo più nulla, E' già colui che è pienamente sé stesso, Nel Dio di Abramo, Dio di Asacco, Dio di Giacobbe. Nel roveto chiamato Francesco, Arde Dio, e arde sempre di più. I paesi come la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, Li rimarranno debitori per il prezioso lavoro, Le cui tracce, rimaste nei suoi scritti, Ed ancora di più lasciate dalla sua presenza, Negli uomini di cultura, Saranno per noi tutti di grande aiuto Nel ricercare le strade dimenticate Verso l'Europa di San Benedetto, Dei santi Cirillo e Metodio, E di San Adalberto. La sua presenza ci rincuorava E ci liberava dai confini di filo spinato In ogni senso del termine. Francesco rompeva l'isolamento Che non ci permetteva di vivere Nella comunione delle persone. Apriva l'uomo all'altro uomo, La famiglia all'altra famiglia, La nazione alle altre nazioni. Facendo questa politica dell'amore, Creando cioè la cultura, Egli rompeva perfino le conseguenze Dell'alleanza forzata ed artificiale Tra l'Unione Sovietica Ed i paesi dell'Occidente. Le rompeva vivendo l'Europa Come essa è nel suo principio, E che oggi emerge davanti a noi Come compito Che esige lavoro e sacrifici. Essa lo chiamava già trent'anni fa. Ogni compito di creare qualcosa, Ponendoci davanti al principio Della realtà da compiere, Ci chiama ad una azione Per l'avvenimento In cui questa realtà Comincia e si compie. Francesco Ricci Ne era pienamente cosciente Ed è ciò Che ha unito la sua azione A quella del cardinale Vojtyla Divenuto poi Giovanni Paolo II Cercando il principio Di tutto ciò Che accadeva nella sua vita Don Ricci Ha vissuto il suo essere se stesso In sintonia Con l'essere se stesso Di questo Papa Sintonia Sintonia Che non ha avuto bisogno Di dichiarazioni d'amore Era una cosa di per sé ovvia Rispondendo al principio dell'Europa Don Ricci era in grado Di parlarne con competenza Egli era un europeo A pieno titolo Con una simile competenza Poteva parlare del cristianesimo E della fede cristiana E in fin dei conti Dell'uomo Egli era uomo Egli era cristiano Quando lo vidi la prima volta Nel 1966 A Milano Marittima Durante un incontro Con gli studenti Pensai a Don Quixote A causa non solo Della sua altezza Ma anche Del suo lottare Per le cose lontane Ma subito sentii Il suo amore segreto Di quell'avvenimento Che è Cristo E fui sicuro Di aver incontrato Il cavaliere Della tavola rotonda Un galate O un lancelot Per i quali Valeva la pena Di vivere Solo Per il santo graal Cioè Per la grandezza Della grazia divina Andava Andava nei nostri paesi Con le vele alzate Cercandovi Il vento favorevole Che lo portasse Per dirla con Socrate Verso le isole Della felicità Sognate Da lui Talvolta Quando bussava Alla porta Della mia casa A Cracovia Dove si fermava Condividendo con noi La strettezza E tutte le incomodità Di essa Avevo l'impressione Che una di queste isole Sognate Si fosse avvicinata E li sognava Un'Europa Di uomini creativi E lungimiranti Sognandola Cercava I luoghi In cui Essa È nata Perché È il principio Che decide Della fine Egli Lavorava Nel vero senso Del termine Cercava Cioè La verità Perduta Dell'uomo Dovunque Costruiva Ponti Tra paesi Edificava Il ponte Tra la cultura E la fede Egli Su questa terra È stato Un uomo Pontificale Libero E pieno Di dignità La dignità Del suo essere Che si rivelava Nel carattere Missionario Del suo agire Proveniva Dal suo Saper Ricevere I doni Talvolta Molto Difficili Che Dio Li faceva E che esigono Di saper Soffrire Senza La sapienza Del soffrire Francesco Non avrebbe Potuto Mai Rispondere Adeguatamente Alla realtà Dei doni Avrebbe Costruito Teorie Che avrebbero Testimoniato Soltanto I limiti Della sua Ragione Umana Francesco È stato Testimone Del dono Ha compiuto La missione A lui Affidata Da Dio Ha conosciuto Il dono E colui Che glielo Aveva Fatto La vita Di Francesco Era un Dialogo Con Cristo Dialogo Che rammentava Quello Che la Samaritana Ha vissuto Al pozzo Di Giacobbe Dando Da bere A colui Che glielo Aveva Chiesto Come la Samaritana Anche lui È stato Mandato A tante Città C'è qualcosa Di simbolico Quindi Profetico Nel fatto Raccontatomi Qualche giorno Fa Dalla sorella Di Francesco Signora Eugenia Presente Qua Tra di noi Negli ultimi Mesi Della seconda Guerra Mondiale Mentre Sua madre Insegnava L'italiano Ai soldati Polacchi Francesco Ragazzo Di dieci Anni Portava Loro Nelle Taniche L'acqua Dal pozzo Cosciente Del dono Che lo Aveva Mandato Don Ricci Non dipendeva Da nessuno E lì fu Un'autorità Reale Non Quella Illusoria La cui Forza Deriva Dall'avere Qualcosa Francesco Poteva Permettersi Il lusso Di non Avere Nulla In altre parole Egli era Troppo grande Per cercare Onori Li bastava L'onore Di essere Uomo Mi colpiva Il suo realismo Che si esprimeva Nell'umiltà E nel coraggio Tutti e due Signorili L'umiltà Proveniva Dal suo Vivere Pienamente Il presente Nel coraggio Invece Si rivelava La sua Speranza Con l'aiuto Della quale Intravedeva Il futuro Di questo Presente Mirando Lontano Senza Abbandonare Ciò Che era Ancora Incompiuto Lavorava Creativamente L'umiltà E il coraggio Li hanno Permesso Di essere Un uomo Buono E poetico Di fronte Alla realtà Siamo quindi Sereni Perché Per citare Ancora Norwitt Di tutte Le cose Di questo Mondo Rimarranno Soltanto Due La bontà E la poesia La sua vita Era ricolma Di entrambe Don Francesco Ricci Offriva Sempre Tutte e due Ad ogni uomo Che lo incontrava Non ricordo Nemmeno Un incontro Con lui Che sia Stato Guastato Da parole Vuote E vane In ciò Che diceva Era presente Lui Era presente Con il suo Sogno Pieno Di speranza Pieno Di fede E pieno D'amore Perciò Non ci Meravigliamo Che sia Stato Padre E maestro Per tanti Suoi amici Egli Rimarrà Nella memoria Dell'avvenimento Quale è Cristo Crocifisso E risorto Memoria Poetica Che è la vita Della Chiesa Egli Sognava La realtà E non I fantasmi Perciò E' stato Amato Anzi E' meglio Dire E' amato In tanti Paesi In tanti Continenti Ciò Significa Che Don Francesco E' entrato Profondamente Nella verità Della vita Ogni Formalismo Compreso Quello Di carriera Al quale Parecchi Riducono La propria vita Lì era Totalmente Estraneo Quando si Trovava Di fronte Ad uno Dei fautori Di una Esistenza Così Ridotta I suoi Occhi Erano Quelli Di una Persona Che si Era Incagliata Nell'incomprensibile Cioè Nella mancanza Dell'amore Don Francesco Ha fatto Tante cose Nella sua vita E le ha fatte Per i valori Che liberano L'uomo Dalla prigione Del proprio Corpo Ridotto A se stesso L'uomo Così Liberato E' libero Dapertutto Perché E' libero Dalla morte E' a questa Libertà Che mirava La sua Politica Il vero Politico Perché Non ha sete Di potere Sembra Vivere Al margine Della vita Sociale Eppure Don Francesco Ha vissuto Proprio L'essenza Di essa Francesco E' stato Politico Nel senso Più nobile Cioè Nel senso Socratico E cristiano Del termine Essendo Se stesso Cioè Pensando Agli altri Li conosceva E Conoscendoli Poteva Ricondurli Ai fondamenti Della società Quali sono La comunione Con la verità E la liberazione Dalla menzogna E nel Ricondurre Gli uomini A questi Fondamenti Che consiste Lars Governandi Colui Che non ha Imparato Questa arte Di governare Realizza Una politica Che chiamerei Ars Devastandi Da una tale Comunione Con lui Da una tale Arte Di governare E' nata La rivista Il nuovo Areopago Essa Si appoggiava Su di lui Don Ricci Continuerà A sostenerla Perciò Non gli diciamo Ancora Grazie Credo Che sarebbe Troppo presto Esonerarlo Dai nostri Doveri Comuni La sua Politica Di ricevere I doni E di farli O meglio Di essergli Proprio In questi giorni Può Aiutarci A liberare L'Europa Dalla minaccia Del fare Politico Privo Dell'amore E della Conoscenza Dell'uomo Il suo Ultimo libro Cronache D'Europa Perdute E ritrovate Dovrebbe Essere Donato A tutti Coloro Che cercano Non una Teoria Sull'Europa Ma L'Europa Sia In Polonia Sia Negli altri Paesi Che la Stupida Malizia Dei Comunisti Devastava Impietosamente Don Ricci Aveva Stretto Amicizia Con Tanti Intellettuali E con Tanti Uomini Di Cultura Che hanno Contribuito A smascherare La Menzogna Illuministica Sapeva Trovarli Nella Loro Solitudine Ed Intravedere Il Futuro Che Essi Creavano Con L'aiuto Della Parola Libera Cioè Legata Alla Verità Nonostante Vivessero Persino Nella Mancanza Della Libertà Della Parola E lui Che ha Presentato Ai lettori Italiani Havel Mazowiecki Sviergina Miłos Patoczka E tanti Altri Quando I loro Nomi Ancora Non Erano Un Business E lui Che li Ha Fatti Conoscere L'un L'altro Malgrado Le frontiere Di Filo Spinato Raccontando In Un Paese Ciò Che Aveva Visto In Un Altro Tale Quale è stata La sua Politica Quel Servizio Divino Per usare L'espressione Di Socrate Servizio Di cui Poco O nulla Era più Prezioso Negli stati Totalitari Don Francesco Eri nato Nel giorno Dell'Eucaristia Dopo aver Ha ricevuto Il corpo Il Sangue Del Signore Ha Chiuso La Sua Vita Terrena Con La Stessa Dignità Con Cui Chiudeva Tante Volte Il Tabernacolo Dove Abita Dio Ma Essendo In Dio Verso Il Quale Egli È Esistito È Rimasto In Tutti Coloro Per I Quali Egli È Vissuto Ringraziamo Dio Per La Vita Di Francesco E Per La Sua Morte In Cui Albeggiò Il Compimento Del Suo Ricevere Il Dono Della Vita E Del Suo Ultimo Atto Quale È La Morte Don Francesco Ricci Accettando La Grazia È Riuscito A Fare Una Epifania Del Padre Ed È Ciò Che Costituisce L'essenza Stessa Della Sua Missione Vale A Dire Del Suo Essere Se Stesso Cioè Del Suo Essere Persona Umana Grazie Ringraziamo Ringraziamo Molto il Professor Griegiel Ed ora La Testimonianza Di Padre Leuridan È Un Domenicano Belga Che Lavora Dal 68 A Lima In Perù Dove Vi È Giunto Come Missionario È Responsabile Nazionale Del Movimento Di Comunione Liberazione Ha incontrato Ricci Appena Tre anni Fa Cari Amici Cari Amici Il Padre Francesco Ricci Ha un Significato Molto Particolare Per il Movimento Di Comunione Liberazione In Perù Egli Ci Ha Accompagnato Nei Primi Anni Con Le Sue Visite Periodiche Al Nostro Paese Senza Dubbio Questa Presenza È Stata Per Noi Determinante Ci Si È Presentato Come Un Amico E Come Un Missionario I Molti Che Hanno Potuto Conoscerlo Si Sono Sentiti Tutti I Suoi Amici Personali Un Uomo Di Così Vasta Cultura È Stato Capace Di Ascoltare E Conversare Anche Con Le Persone Più Umili Per Tutti Aveva Parole Di Incoraggiamento La Sua Presenza Era Una Presenza Che Faceva Rinascere E Rivivere Le Persone La Sua Allegria Ci Commuoveva Il Padre Francesco Ricci Era Un Autentico Missionario Era Venuto Per Annunciare Il Cristo Le Sue Conferenze Non Erano Propaganda Buon Mercato Di Comunione Liberazione Non Ci Parlava Di Quanto Grande Fosse Ciò Che Aveva Realizzato O Stava Per Fare In Italia O In Altri Paesi Comunione Liberazione Gli Importava Invece Comunicarci L'accadimento Del Grande Mistero Non Era Un Ripetitore Di Formule E Termini Imparati A Memoria No Invece Ha Espresso Con Tutta E Sola La Forza Della Sua Intelligenza E Personalità Il Carisma Di Comunione Liberazione Non Dava Ricette Facili Ma Invitava Con L'estensione Del Suo Spirito E La Grandezza Del Suo Cuore A Prendere Parte Alla Storia Nuova Iniziata Dentro Di Noi Con La Presenza Di Cristo Non Era Un Vigilante Di Una Verità Senza Vita Apriva Invece Una Strada Nuova Verso Una Vita Più Piena In Cui La Verità Faceva Vibrare Le Persone Attraverso La Grandezza Dell'Evento Che Si Stava Producendo Nella Sua Esistenza L'autenticità Della vita Missionaria Di Don Francesco Si Manifestava Inoltre Nel Suo Profondo Rispetto Per Le Persone E Le Culture Non Ha Mai Posto Condizioni O Preteso Qualcosa Per Sè Mi Azzarderei A Chiamarlo Un San Paolo Del Secolo Ventesimo Ebreo Con Gli Ebrei Greco Con I Greci Barbaro Con I Barbari E Giapponese Con I Giapponesi Quest'uomo Che non aveva Un luogo In cui Dormire O Mangiare Sottoposto A una Varietà Di Orari Diffusi Di Continenti Diversi Di Vieni Di Persone Diverse Seppe Con Conciliarsi Con La Gran Varietà Di Culture E Riconoscere Le Differenze Fra I Popoli Senza Negare Le Sue Stesse Radici Culturali Distingueva Chiaramente Fra L'Annuncio Atteso Da Tutti I Popoli E Le Circostanze Diverse Quest'uomo Colto Dotato Di Un'acuta Intelligenza Avido Nel Conoscere Le Ultime Notizie I Progressi Della Scienza Della Tecnologia La Problematica Di Tutti I Popoli Lettore Della Grande Filosofia Era un sacerdote Che viveva il suo sacerdozio in tutte le dimensioni sacramentali, evangeliche e pastorali Il suo interesse nell'approfondire e discutere le conoscenze restava arricchito dall'intelligenza Attraverso il miracolo dell'incontro con la gente, anche la più semplice, che rendeva possibile l'appartenenza al grande mistero, il padre Francesco Ricci faceva crescere gli altri, speriamo che ci accompagni nella via del carisma, Che la sua lealtà a Don Giussani sia per noi una ispirazione permanente del primo e più importante compagno, grazie Grazie padre Leuridan Ed ora la testimonianza di Abukawa E' un monaco buddista del Monte Koya Attualmente rettore dell'università del Koyosan Come maestro di novizia ha formato numerosi bonzi sparsi in tutto il Giappone E' uno degli ultimi incontri che Don Francesco ha fatto Risale l'incontro di Don Francesco con Abukawa a questi ultimi anni E' uno degli ultimi anni Vice rettore dell'università del Monte Koya Voglio cominciare il nostro intervento ringraziando Don Ricci Siamo stati caldamente invitati da voi e siamo ritornati anche quest'estate al meeting di Rimini Io vorrei adesso pregare insieme alle tuoi Dottore Takagi e altri professori e collaboratori dell'università del Monte Koya Perdon Ricci e mi inchino profondamente davanti a lui che è stato nostro amico Anche se abbiamo avuto poco tempo da quando ci siamo incontrati nella nostra università Ma con lui è nata lo stesso una mitizia molto profonda Anche se abbiamo avuto poco tempo da quando ci siamo incontrati nella nostra università di Rimini Come ho già detto ci siamo conosciuti per un periodo molto breve Ma la nostra è stata una mitizia molto profonda e sentivamo di condividere la stessa missione Mi sembrava che abbiamo avuto meno di una settimana di tempo per stare insieme e mangiare insieme Grazie mille 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 Il giorno seguente, egli tenne una lezione in università intitolata Il desiderio di felicità che esiste nel profondo di ogni uomo. Gli studenti e i professori furono molto colpiti dalla sua lezione e non finivano più di fare domanda perché volevano capire meglio la sua posizione. Dopo, siamo andati nel tempio Ninnaji a Kyoto, mentre guardavamo le neve che cadeva a piccoli fiocchi. Abbiamo bevuto del sake giapponese. Ricordo ancora con nostalgia questo episodio. Chiristo-kio-de-are, Bukkio-de-are, Poco tempo dopo la sua lezione alla nostra università, abbiamo saputo che la sua salute non era molto buona. Bukkio-de-are, 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 Anche io vi dico arrivederci a presto al Monte Goya. In grande e definitiva amicizia il vostro Don Ricci. Questo è tutto. Noi speriamo fermamente che la sua anima sia nella pace eterna. Noi ringraziamo moltissimo Don Ricci e sentiamo la sua presenza con noi in questo momento e con noi sarà per sempre con una missione di amore e di verità. Grazie. E infine padre Tiboni, con Boniano, missionario in Uganda dal 70 e ha vissuto tutte le peripezie di quel paese. Ha incontrato Comunione e Liberazione nel 75 eppure in quegli anni ha incontrato Don Ricci. La ragione per cui siamo qui radunati a guardare alla figura ammirevole di Ricci è che in lui si esprime nella maniera più viva e gloriosa la dimensione missionaria del carisma di Comunione e Liberazione insieme con la dimensione culturale come ha ben espresso il professor Griegel che del resto è inseparabile dalla missione. Per me poi come missionario è proprio la ragione per cui nella ricerca di una missione, di un metodo di missionario che fosse realmente significativo ho incontrato il Movimento e ho incontrato Don Ricci. Per cui io voglio comunicare brevemente a tutti la grandezza del dono che il Signore ha fatto al Movimento attraverso la persona di Francesco Ricci e in particolare il dono che ha dato alla missione del Movimento. Nei primi anni, cioè negli anni 50 Ricci era cappellano dell'azione cattolica e incontrò Don Giussani a Roma. In quel momento lui stava cercando qualcosa che potesse essere veramente significativo per la vita degli studenti di cui stava occupandosi e ha incontrato in Don Luigi Giussani ciò che cercava. Da allora egli è stato un profondo amico e compagno di Giussani in tutto il lavoro e in tutte le opere. Io quando lo incontravo lo chiamavo missionario dei cinque mondi ricordando Garibaldi che è solo l'eroe dei due mondi ma l'essere missionario è una cosa diversa perché lui viveva fuori lì in Romagna che è forse e anche certamente la parte più rossa dell'Italia di tutto il mondo dove il comunismo dove il comunismo è profondamente radicato nella cultura del popolo poi insegnava era professore a Bologna come sapete la capitale del comunismo italiano e lui ha costruito il movimento proprio in questi luoghi con una forza un coraggio e un'intelligenza grandiosa ma l'infinito orizzonte della sua intelligenza e del suo cuore non poteva trattenerlo in Italia e subito si è aperto verso l'est in particolare verso la Polonia come è stato ricordato di nuovo dal professor Griegel ha visitato quei paesi si è messo in contatto con i movimenti cristiani ne ha espresso tutta la ricchezza attraverso il centro di studi per l'Europa dell'Est la rivista Axeo quello che è interessante è come un po' la volta la sua passione per l'Europa dell'Est è stata comunicata a tutto il movimento che lo seguì in profonda comunione con tutti i cristiani dell'Est europeo mentre tutti gli altri in Italia non erano interessati a questa grande realtà poi negli anni settanta la sua attenzione si è rivolta verso l'America Latina dove si è recato molte volte quando io sono andato in Paraguay nell'88 mi sono reso conto come le comunità dell'America Latina provenienti dal Cile dall'Argentina dal Paraguay dal Brasile consideravano Ricci come loro fondatore più ancora come loro padre e mostravano un'affezione e un'amerazione e un affetto per lui straordinario che del resto vi è stato testimoniato dal padre del padre Laurida io nell'Uganda sono stato espulso dal presidente Amin nel 75 durante il periodo che io ero in Italia dal 75 all'80 padre Francesco Ricci andava a visitare i volontari che erano in Uganda a Kidgum in quel periodo la situazione della comunità di Kidgum nell'Uganda era semplicemente tragico sia per la situazione esterna che quella interna e mi confessava sotto il regime di Amin tra gli accioli e Ricci mi diceva che ero stato mandato dall'autorità del movimento per chiudere definitivamente la presenza dei volontari a Kidgum e porre termine per così dire all'esperimento che non produceva niente anzi solo afflizioni e dobbiamo a Don Ricci se la presenza a Kidgum è continuata e se più tardi nell'81 ha potuto avere inizio il movimento di Cristo e comunione di vita poi Don Ricci ha sempre manifestato una grande passione e una grande accoglienza per la nostra presenza in Uganda e nell'Africa e mi chiedeva spesso perché non lo invitavo a tornare non dipendeva da me e poi soprattutto le sue energie io dicevo continuamente che dopo l'Est e dopo il Brasile doveva andare verso l'Asia la mia amicizia con lui si approfondì ancora con l'inizio del movimento di Cristo e comunione di vita e lui diffuse la conoscenza del Cristo comunione di vita in tutto il movimento di CL specialmente nell'America Latina e anche l'atto di affidamento alla Madonna che è diventato comune nell'America Latina e anche nella Polonia durante gli ultimi tre anni la sua malattia si gravò spesso le dicevo Ricci tu non morirai prima di avere costruito anche l'Asia e ho pregato per lui e di fatti proprio ancora malato di cancro lui ha potuto andare come avete sentito in Giappone a rinforzare la presenza là e il suo desiderio era anche di aprirsi e di entrare nella Cina invece il Signore il 30 di maggio nel 91 l'ha chiamato ad entrare nella insomma entrare nella gloria dei Santi per potere di là seguire tutta la missione ed essere veramente il missionario dei cinque continenti insomma in una maniera più efficace con una presenza più efficiente che non quando era in vita quando penso a lui ricordo San Francesco Saverio che allo stesso modo dopo essere stato missionario in India e Giappone morì sull'isola di Timor guardando verso la Cina dove voleva andare anche Saverio era un brillante professore all'università di Parigi quando Ignazio di Loyola li si presentò umilmente quasi come un pezzente un mendicante a ripetere continuamente cosa importa guadagnare tutto il mondo e far carriera nell'università se poi rovini la tua vita e Saverio è diventato il più affezionato discepolo di Ignazio che lo ha mandato in India e in Giappone possiamo dire che Francesco Saverio è stato per Ignazio quello che Francesco Ricci è stato per Don Giussani il quale ha fondato la grande compagnia del movimento e ha mandato Don Ricci in tutto il mondo come San Francesco Saverio la mia amicizia e ammirazione per lui era profondissima e anche la sua affezione per me era straordinaria e stranamente questo non l'ho mai capito anche la sua ammirazione e adesso che è morto la nostra amicizia non è per nulla diminuita anche anzi è diventata più grande è la sua presenza più potente per cui c'è veramente un'affezione anche più grande e credo che sia quello che succede a tutti voi ecco questa è la memoria vive e commossa che abbiamo di Don Francesco credo che gli interventi ci abbiano aiutato davvero da esprimere questa commozione che abbiamo di Don Francesco il meeting vuole continuare col suo contributo perché queste orme sparse nel mondo da Don Francesco di una presenza non si cancellino anzi si estendono davvero fino a tutti i luoghi della terra fino ai confini della terra così come era proprio nella sua come era la passione che Don Francesco aveva e lo spasmo che Don Francesco aveva proprio che l'avvenimento di Cristo fosse conosciuto l'avvenimento di Cristo si estendesse davvero di tutti i popoli del mondo grazie grazie a tutti